Stato di agitazione e avvio delle attività di sciopero generale da parte dei dipendenti del Consorzio di Bonifiche dei Bagini del Tirreno Cosentino ex Vallelao di Scalea, ma soprattutto la richiesta del tavolo di crisi. I dipendenti che hanno firmato l'avviso personalmente o con delega sono 29 dei 33. L'hanno deciso ieri dopo l'ennesimo incontro e conti alla mano si può capire chi non avverte il disagio, spiegano gli stessi dipendenti, anche perché nella nota è chiaramente scritto, si rifiuta di firmare, le motivazioni esposte dai lavoratori sono sempre le stesse, gravi condizioni inerenti il pagamento degli stipendi, l'ultima mensilità percepita, scrivono, risale al novembre dello scorso anno, il 2015. I firmatari della missiva scrivono pertanto della decisione al governatore della Calabria Mario Oliverio e all'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano, inoltre informano del tutto il prefetto di Cosenza, i carabinieri e le sigle sindacali regionali. Stipendi non pagati e gravi ripercussioni sul nucleo familiare per ognuno e la cosa che incute più timore, spiegano ancora, è la guerra politica che si consuma all'esterno del palazzo per la sua gestione, senza prospettive di miglioramento. Dalla Presidenza infatti si passa al commissariamento ancora una volta, dimenticando che dei lavoratori non percepiscono lo stipendio da mesi e questa è in poche parole l'amarezza di chi lavora per l'ex Valerao, un consorzio come tanti che ha subito i tagli dei trasferimenti regionali estremi ed insensati, dicono, nonostante ciò non sono mancati gli sforzi per il recupero dei ruoli pregressi e dell'evasione. Ogni cosa fatta però ribadiscono da scalea, si è scontrata con l'amara realtà, ovvero l'impossibilità al mantenimento della pianta organica e l'emergenza nella capacità operativa dell'ente nelle sue funzioni essenziali. Oggi però emergenze e le autorità competenti aprono il tavolo della crisi per la soluzione immediata della vertenza lao, non solo per i singoli dipendenti ma per tutti i consorziati e l'intero bacino.